Ciao, primo incontro su Gabriele D'Annunzio, un personaggio estremamente importante della nostra letteratura, molto discusso e sotto alcuni aspetti anche molto discutibile come personaggio, come uomo, come esistenza condotta al limite dell'esperienza umana, al limite della possibilità che un qualsiasi artista, un qualsiasi uomo dell'epoca poteva raggiungere e che in qualche modo ha trasformato in maniera programmatica la sua stessa vita in un'opera d'arte, come lui stesso afferma in un'opera appunto da lui scritta. È un personaggio molto singolare in cui noi abbiamo difficoltà effettivamente a distinguere dove è la sincerità di ciò che scrive e dove è invece la falsificazione, voluta, volontaria, architettata, pensata e poi messa in pratica nelle sue opere ma anche nella sua stessa esistenza. Lo troviamo appunto in, lo vedremo fra in breve nella vita, lo troviamo in alcune parti del mondo a vivere come se fosse un vero principe rinascimentale, ma siamo ovviamente alla fine del 1800. Ecco, che senso ha una vita di questo genere? Che senso ha scrivere alcune, diciamo, alcune pagine che sono palesemente esterne, palesemente violente, palesemente false? Che senso ha? Ecco, cercheremo di dare una risposta in questa lezione e anche nel corso delle altre video lezioni per cercare di intravedere una certa sincerità dove è il dannunzio vero, anche se è una domanda forse malposta, è una domanda che forse nemmeno ha molto senso, perché è un personaggio che appunto ha in qualche modo ha accavallato il suo ruolo di intellettuale, di pensatore, di eroe con quella che è la sua vita vera. Per cui penso che lui stesso alla fine avesse una certa... ovviamente non possiamo entrare nella mente di nessuno e in particolare di questi grandi personaggi del passato, però penso forse che alla fine della sua stessa esistenza forse lui stesso avesse una certa difficoltà a distinguere, semmai appunto ha avuto questo pensiero, distinguere ciò che è stato vero e ciò che è stato invece artefatto nella sua esistenza. Ma passiamo a vedere appunto brevemente quella che è la sua esistenza, anche perché poi è molto famosa, si accavalla con fatti del suo tempo, fatti importanti che avrai già studiato o che studierai nei libri di storia. Nasce a Pescara nel 63-1863 e di questo passato abbrozzese noi troveremo traccia praticamente in tutte le sue opere. Nel 70, ricorderai, è la breccia di Portapia, quindi la nascita dello Stato Unitario con Roma, capitale. Pubblica nel 79, quindi appena a 16 anni, il suo primo libro di poesia, dopo un passato tormentato, già tormentato a pochi anni appunto da adolescente nel famoso collegio di Prato Cicognini, scrive questo suo primo libro di poesia che diventa già molto apprezzato. Però è a Roma che in qualche modo diventa quello che poi sarà. Assume questa sua prima, poi parliamo di varie fasi, alla conclusione di questa video-lezione e poi nelle successive, assume la sua prima identità, chiamiamola così, la sua prima maschera di esteta. Si trasferisce appunto a Roma nel 1881, dove frequenta i salotti mondani. L'aristocrazia, quella aristocrazia nera e bianca, quella pavalina antica, legata ovviamente al Vaticano, e quella nuova aristocrazia che viene da un po' tutta Italia, dal Piemonte in primo luogo, ma che è arrivata appunto con il re. Ecco, l'unità ha portato anche all'unità di queste fasce sociali, che, ripeto, pur essendo entrambe appartenenti alla fascia più alta, all'aristocrazia più ricca, però appunto appartengono, vengono da due mondi differenti, e due approcci abbastanza differenti. Ed annunzio da buon borghese, quindi di fatto estraneo a questo tipo di classe sociale, si inserisce, sguazza in mezzo a appunto signore, no, principesse riccamente adornate, a signori estremamente potenti della appunto aristocrazia, nella quale, eventualmente, lui si trova molto bene. È corrispondente mondano di gossip, ecco, questo qua ce l'abbiamo ancora noi oggi, molti di riviste di gossip, che hanno molto successo, hanno una tiratura molto alta, e lui è così occupo di questo. Quindi di fatto entra proprio dentro le vicende, certamente non quelle importanti, ma le vicende sentimentali, le vicende, i pettegolezzi, che animano l'aristocrazia romana. Li conosce da di dentro, dall'81, e non è un caso che nel 1889 pubblichi il suo primo romanzo, che di fatto non è altro che un resoconto, pur dietro una trama, che poi, come vedremo poi in una successiva video-lezione, è una trama non proprio molto forte, però, ecco, beh, di fatto un resoconto di questi anni romani passati nei salotti della alta aristocrazia. È singolare questa coincidenza, nel 1889 ed annunzio pubblica questo romanzo, che vuoi per lo scandalo che suscita, perché ovviamente tratta con molti dettagli, diverse storie d'amore, che ha avuto Andrea Sparelli con diverse pontesse, principesse, duchesse, eccetera, eccetera, però è singolare, anche sintomatico, che nel 1889 noi troviamo anche la pubblicazione di Mastro Don Gesualdo da parte di Verga. Perché dico sintomatico? perché appunto sarà una, così, un retaggio scolastico, però effettivamente noi abbiamo un po' la tendenza a vedere tutti i vari movimenti che studiamo nella storia della letteratura come se fosse un trenino, diciamo, ecco, è finito il vagone dell'umanesimo, ecco comincia il vagone del rinascimento, o come un museo, ecco, è finita, siamo appena usciti dalla stanza in cui ci sono le opere del barocco, e così, appunto, come se fosse un movimento meccanico, uno switch, ecco, passiamo al settecento, alla nuova sensibilità, all'illuminismo, eccetera, eccetera, e di nuovo uno switch poi è finito, morti tutti, no, paradossalmente, morti tutti gli autori dell'illuminismo, ecco lì che comincia il romanticismo. E' ovviamente una riduzione arbitraria che si fa a scuola per rendere un po' più comprensibile, un po' più facile l'apprendimento. Ma proprio questa data, 1889, ci fa capire che il verismo, che era incarnato da Verge, importante movimento che si sviluppa in dipendenza dal naturalismo francese, 1860, 70, 80, di fatto è assolutamente affiancato al neonato movimento decadente. Ripeto, è una data emblematica per questo, non vorrei neanche troppo caricarla di significato, però ricordiamoci sempre che sono uomini, sono movimenti fatti da uomini, movimenti letterari, artistici, che sono animati da persone, per cui c'è poco da, appunto, schematizzare, ridurre, appunto, avviene prima questo, poi quest'altro, e penso proprio alla vita di D'Annunzio e la produzione artistica di D'Annunzio su questo siano abbastanza emblematici, nella sua produzione letteraria sono individuabili varie fasi, lo vedremo, ma questo è perfettamente normale, comprensibile. Nel 90, dopo aver letto Introduzione Francese, e anche di questo parleremo, alle opere di Nietzsche, comincia una relazione che sarà, pur fra alti e bassi, molto duratura, una relazione molto importante, con un'attrice, forse l'attrice più importante del periodo, che è Eleonore Duse, certamente una donna affascinante, un po' già avanti negli anni, che appunto stringerà un connubio con questo poeta, molto singolare, che lo porteranno entrambi a scelte ovviamente scandalose per il tempo, ma anche a scelte artistiche molto interessanti, il teatro che D'Annunzio creerà, di cui non parleremo in queste video-lezioni, il teatro sarà certamente influenzato dalla presenza di Eleonore Duse, e Eleonore Duse sarà portata a calcare le scene di opere che non avrebbe mai, mai e poi mai, accettato di ricoprire. Per cui è un connubio molto singolare che rifluirà poi in molte delle opere che leggeremo. E qua ti do una scorsa veloce a quelle che sono le date dei romanzi più importanti, più famosi, che poi affronteremo specificatamente nelle prossime video-lezioni. Del 93 è il poema paradisiaco, che non è un romanzo, è appunto un poema, di cui parleremo, del 94, Il trionfo della morte, del 95, Le virgine delle rocce. 1900, data importante, l'omicidio di Umberto I, e la pubblicazione da parte di Danunzio del Fuoco. E anche su questo poi vedremo l'importanza di Venezia, di cui abbiamo già accennato nelle video-lezioni sul decadentismo. Del 1903 sono i primi tre libri delle laudi. Forse l'opera più importante, giudizio personale, l'opera più importante di Danunzio, l'opera che è più strettamente decadente, almeno al Cione, il terzo dei libri e delle laudi, che rientrano appieno nel panorama decadente, ma anche su questo ci fermeremo a suo tempo. Nel 1910 fugge in Francia per sottrarsi ai creditori. Ecco lì, è una vita appunto racambolesca e noi non sappiamo se volutamente racambolesca per appunto incarnare il personaggio che va oltre i limiti, che va oltre i confini borghesi, oltre i cliché della normalità. Ecco, non sappiamo. Comunque, di fatto, l'affitto della villa di Settignano presso Firenze costa troppo, ormai appunto i creditori non accettano più di l'azione dei pagamenti ed è costretta a fuggire in Francia. Ed è del 1910 proprio questo romanzo importante nella fase del super nuovo forse è l'unico che finisce bene, diciamo così, ma poi ne parleremo, forse che sì, forse che no. E poi accade un dato interessante che contemporaneamente ad altri fatti della storia italiana importanti, del 1912 è il soffraggio universale maschile, sempre maschile, per quello femminile bisognerà aspettare almeno una trentina, quarantina d'anni e poi la conquista della Libia che è ovviamente un desiderio in qualche modo di scimmiottare, un desiderio italiano di scimmiottare il grande impero coloniale inglese, quello francese, quello che era stato, quello spagnolo, eccetera, eccetera. Pubblica il quarto libro delle laudi e rientra in Italia, questa è una cosa che non viene mai ma è molto messa in rilievo ed è una vergogna il fatto che lo stato italiano paga i debiti di dannunzio perché lui possa rientrare in Italia e con la sua vehemente oratoria portare le folle verso la prima guerra mondiale. Dico che è una vergogna perché effettivamente è uno stato tutte le vicende storiche non entrano nelle vicende storiche che hanno portato l'Italia a intervenire in questo massacro inutile massacro della prima guerra mondiale dalla quale poi potevamo tranquillissimamente tirarci fuori o defilarci in maniera molto elegante e anche con qualche vantaggio e invece si vede l'intervento del male proprio nell'adesione a questa guerra come tutte le guerre inutili ma questa in particolare praticamente l'impero austro-ongarico ci aveva già promesso ciò che noi pretendevamo per non entrare in guerra ciò nonostante entriamo lo stesso. D'Annunzio fa parte di questo piano adesso non voglio portare avanti discorsi strani ma sono un piano mefistofelico in qualche modo che vuole l'Italia entrata in guerra tutto il mondo è entrata in guerra ma l'Italia ripeto poteva tranquillissimamente farne a meno D'Annunzio fa parte di questo piano architettato poi appunto non c'è un'eminenza grigia ce ne sono varie di eminenza grigia che vogliono la guerra e D'Annunzio è burattino di questa commedia la sua oratoria serve per portare una nazione al massacro per portare la gioventù italiana alla morte ed è questo infine che lo porta anche lui stesso ad essere uno degli artefici in qualche modo di alcune delle azioni più incredibili dei nostri soldati dei nostri soldati durante la prima guerra mondiale certamente del 18 se non lo ricorderemo la beffa di Buccari il volo su Vienna troverai materiale infinito in internet non mi fermo però il volo su Vienna è appunto la classica anche la beffa di Buccari sono le classiche azioni eroiche al limite in cui appunto il personaggio si sovrappone con l'uomo certamente un carattere impetuoso che però compie delle azioni che sono veramente incredibili segno di un coraggio in qualche modo così un coraggio che è veramente al confine con con la morte ecco per cui il volo su Vienna appunto con degli aerei che sono gli aerei della prima guerra mondiale poco più che dei tre piccoli volanti va sopra la capitale della della nazione contro pure Italia sta combattendo quindi sfidando ovviamente la difesa antiaerea non per lanciare bombe ma per lanciare dei volantini dei volantini su cui c'è scritto appunto citamento ad unirsi alla causa italiana ad abbandonare quella che è la guerra seguendo il Kaiser ma insomma queste sono alcune delle azioni importanti che compie la pace diversa la pace mutilare cioè tutte le questioni che avrai studiato studierai sui tipi di storia interessante perché appunto è una pace che non prevede l'attribuzione all'Italia di fiume e allora D'Annunzio con i suoi soldi suoi tra virgolette mette su un esercito mette su un esercito di cui si pone a capo conquista in breve questa città che è italiana a tutti gli effetti la occupa e la governa per poi ovviamente questo dura per pochissimo lasciare spazio agli eserciti regolari e al governo italiano però è un personaggio ripeto veramente principe rinascimentale con un suo esercito che assalta conquista e governa una città straniera pubblica notturno 1921 qualche critico dice notturno è un titolo emblematico nel senso che in uno dei suoi tanti voli c'è un ammaraggio piuttosto violento sbatte la testa sulla mitragliatrice dell'aereo e c'è un distacco di retina è costretto al letto al buio bendato senza vedere nulla aiutato soltanto dalla figlia è costretto al letto per diversi mesi per tutta un'estate ed è in questo periodo che è detta su frustoli papiracce diciamo così su pezzettini di carta detta lui così ci racconta detta poesie pensieri ricordi idee qualche critico dice che è proprio questo il dannunzio più sincero ed è sicuramente una poesia una prosa poesia molto molto interessante molto suggestiva forse appunto come dicevo all'inizio la domanda sarà questo il dannunzio vero o sarà un altro che forse è malposta e forse in quest'opera noi troviamo un altro dei tanti aspetti del dannunzio uomo attore chi lo sa viene proprio nel 21 viene in qualche modo omaggiato ma è un omaggio un po' singolare dal regime fascista con questa villa che ha su Gardone il vittoriale degli italiani una villa che poi lui accresce amplia modifica arricchisce di tutti i cimeli ricordi suggestioni oggetti che provengono dalle più disparate parti del mondo ed è una casa che lui di fatto passa appunto 17 anni fino al momento della morte passa la sua vita lì ed è tutt'oggi un museo molto molto importante ci sono delle visite virtuali possibili e ti consiglio di andare a vedere in internet questo posto per avere idea di che cosa vuol dire appunto un un autore decadente cosa vuol dire l'esistenza di un dandy cosa vuol dire l'estetismo magari tante parole tanti scritti in realtà appunto una visita in questa casa può darci molto di più l'idea di chi fosse veramente Gabriele D'Annunzio è una visita che ti consiglio vivamente nel 38 nel 22 c'è la marcia su Roma nel 38 le leggi razziali in Italia vengono emanate e l'umore appunto di emorragia cerebrale naturale proprio nella sua villa una vita molto molto ragambolesca Giordano Bruno Guerri che è direttore del Vittorale degli Italiani ha scritto diverse biografie sono quasi tutte molto interessanti per capire un po' di più questo personaggio così controverso della nostra letteratura due parole sui luoghi sui luoghi che come vedi appunto fra Roma Pescara Roma Settignano poi Parigi poi Venezia Fiume ovviamente e poi per arrivare a prodare alla villa di Gardona un personaggio che ha viaggiato molto e dovunque è stato ha suscitato scandali ammirazione riprovazione è un personaggio molto discusso ma fa parte del gioco possiamo dire in questo modo mi fermo su un'ultima diapositiva che mi sembra molto importante cioè ho voluto mettere qui le fasi le chiamiamo così le fasi della sua produzione letteraria che però sono ovviamente coincidenti con la sua con la sua esistenza ecco c'è una certa corrispondenza fra esistenza e produzione letteraria tanto più rilevanti questo ovviamente vale per tutti gli autori ma è tanto più rilevante in denunzio lì dove appunto incarna e questo l'ho scritto nella depositiva iniziale incarna possiamo dire molti degli eroi l'ho messo tra virgolette in quella video lezione a cui ti rimando del decadentismo molti degli eroi sono da lui incarnati in momenti della vita differenti ma contigui passiamo dalla fase dell'esteta la prima fase appunto abbiamo detto quando arriva a Roma e quando pubblica il piacere questa è la copertina di una delle prime copie del piacere non primissime ma una delle prime copie del piacere e questa è la prima fase subito dopo passiamo alla fase dell'inetto dell'inettitudine che è un altro degli eroi del decadentismo ti ricorderai da Noluntas di Schopenhauer eccetera 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 e in questa seconda fase ripeto che sono contigue c'è veramente a noi visto da fuori questa slide qui sembra veramente un personaggio quasi ai limiti della schizofrenia in realtà come abbiamo detto prima in generale per i movimenti letterari ma in particolare poi per la vita di ciascun letterato in realtà tutto è molto più graduale molto più normale è molto più umano ecco è un cambiamento di stile è un cambiamento di idee e non è quasi mai un cambiamento ma è un agglutinarsi su un nucleo originario di suggestioni differenti che vengono ovviamente da altri da altri autori da altre letture da altre epoche ecco l'inettitudine la fase dell'inettitudine dà vita in qualche modo dalla parte al poema paradisico e dall'altra al trionfo della morte di cui parleremo in questi 4 4-5 anni qua ma subito dopo parliamo del 95 passiamo alla base del superuomo su suggestione della lettura delle opere di Nietzsche che sono già cominciate nel 90 queste letture ecco su suggestione cosa fa? si crea un superuomo a questo dedicheremo poi una video lezione apposita crea appunto un superuomo che non è il superuomo nicciano ma che è un superuomo che ingloba in qualche modo quelle che sono le aspirazioni artistiche dell'esteta e le debolezze esistenziali dell'inetto lo vedremo ovviamente in tre grandi romanzi le vergine delle rocce il fuoco e forse che si forse che no ma anche nel versante della poesia con le laudi la pubblicazione delle laudi il nostro libro e anche altri libri raggiungono una fase notturna però abbiamo già parlato di quest'opera più che fase secondo me sembra veramente una parentesi all'interno di una produzione che mi sembra che abbia al centro questa figura che è prima nicciana ma che poi diventa un personaggio originale di D'Annunzio in cui ritroviamo tante nervature di epoche differente di movimenti passati di eroi anche fra loro in qualche modo contraddittori ma lo vedremo meglio nelle prossime video lezioni alla prossima